Nonostante le tre sconfitte, poi come detto è l'anno del centenario che sarà ufficialmente Ha prospirato per mettere una bomba al centennio al pari No signora Un film di Clint Eastwood Io riporto i fatti Basato su una storia vera Ha rovinato la vita di quest'uomo Contrattacchiamo, sei pronto? Richard Juel A Firenze 107 in Serie A e Rocca la gara numero 28 in Serie A Cominciata per Joe Pedro Tocco di Cigarini, rimane in zona d'attacco e la cale In questo caso la pressione di Cialanoglu è fallosa Intervento di Abisso, caccia di evoluzione, a favore del Cagli Fischi Abisso, può partire Cigarini Palla sul secondo palo, troppo su Droglu, libero a sinistra Cialanoglu rientra sul destro, palla sul secondo palo Dove va Ulzen? La partita è bella Attacca lo spazio Calabria, pallone di ritorno per il terzino Ottima lettura che poi combina con Nandez Ancora l'Argentino è uscita L'Argentino è un po' di un'anomaly L'Argentino è uscita per il terzo Cigarini con il corner Il corso è chiaro Filippo Hilavich L'Avgentino è uscita per il terzo Per il terzo Farrigone L'Argentino è uscita per il terzo L'Argentino è uscita per il terzo Simeone è uscita per il terzo L'Argentino è uscita per il terzo Cigarini è uscita per il terzo Cialanolo con il corner è wide in the end Liao closing in è flitto per Romagnoli Milan now going close Castille Well, it opened up for the shot It was a long way out Benassi Benassi Teo Hernandez was caught By Hernandez Bolli To the near post This is Calabria from distance Angolan This is Giovanni Simeone Good covering challenge From Hacquam Chalonolo The Argentine Suggesting that the last touch Was off the Milan man This is Castille Up against Telegri Hacquam Chalonolo Come in It's Nandes What a save Gondorunna Back to Masao He could walk about He's found Piesse It's like mix up between Piesse And Ibrahinovic Good covering challenge From Teo Hernandez Who once again was caught By Naitan Nandes Rosario Bissok Will probably take Action once the ball Pellegrini's ball in Simeone's header And Cagli Have an effort on goal Up against Cigarini It's a goal for the post And it loops into the back of the net Not the cleanest of strikes But inside a minute of the second half Raphael Biao gives Philan the lead Disappointment for Robin Olsen Really flummoxed and bemused By the flight of the ball Just finished Piessekanu stayed on his feet This is Teo Hernandez Piessekanu was clipped by Ibrahinovic 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 gi pessoal sekanu Girits illene Nielan piessekanu VAR Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.